Ciao amici, siamo in diretta. Ciao a tutti. Bentornati. Come state amici? Bentornati alla nostra diretta. Buona domenica. Buona domenica, hai detto bene Giulia. Buona domenica ad Annetta, Mirasmarta, Vera, Claudio, Marianoto, Anna C. Eccoci. Io non vedo commenti, aspetta. Ah, allora, oggi siamo in diretta per la prima volta su tre piattaforme. Siamo in diretta su YouTube, su Twitch e su Facebook, sulla nostra pagina Facebook. Quindi abbiamo fatto questo esperimento, abbiamo cominciato a fare questa diretta, questo streaming su diverse piattaforme, grazie al supporto dei nostri amici, grazie alle donazioni. Abbiamo potuto fare un piccolo upgrade, un piccolo miglioramento. Sì, infatti... Cosa? Vedo che arrivano commenti anche da Facebook. È vero, sì. Che bello, noi possiamo vedere tutti i commenti insieme nella stessa piattaforma. Sì, è vero. Bene. Come state? Come state? Siete carichi? Siete positivi? Come è andata la settimana? Raccontateci un po'. Ah, ti fanno i complimenti per la camicia. Grazie, grazie, grazie. Sono... Che eleganza. Sono in puro stile estivo ormai. Eh? Sì. Quanti gradi ci sono là? In Texas al momento ci sono circa 30 gradi, il che è un po' anomalo perché normalmente farebbe anche più caldo. Ah, ok. Vabbè. Più caldo di così poi è anche troppo, no? Forse. Sì, però alla fine con l'aria condizionata accesa, a palla, sia in macchina che a casa, non soffri più di tanto. È vero, è vero. Bene. La miglior diretta di sempre, dice Leonardo Spadetti. Allora, cominciamo a salvare qualche amico, vedi? Leonardo Spadetti, la miglior diretta di sempre. Grazie. Abbiamo appena cominciato, Giulia, e già ci arrivano complimenti. Fantastico. Dai, bene, sono contenta. Oh, allora, c'è Aida. Ciao Aida. Ciao Aida, come stai? Come vai in Italia? Esatto, com'è la vita a Milano? Sono curiosa di sapere. Aggiornaci, facci sapere. Negli Stati Uniti tutto bene, cara Aida? Si lavora sempre, tutta la settimana si lavora, fine settimana si ha un po' più di tempo per poter esplorare e comprare qualcosa. Per il resto la temperatura è ottima, è piena estate, quindi si può anche andare in piscina. E che altro? Si mangia tanto. Che cosa mangi? Beh, si mangia grigliata, barbecue, tipico texano, piuttosto che cibo messicano, comida mexicana. E questo è un po' l'aspetto su cui devo stare più attento. Perché? La temperatura è ottima. Giulia? Mi senti? E certo. Mi è partito dal video. Poi, James vuole sapere se sono andato da Walmart. Sì, sono andato da Walmart, da Target, sono andato da Whole Foods, ci sono tante scelte. Ognuna ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Hai comprato la salsa prego? La salsa prego? No. E arriva c'è una donazione. Wow. Alex Morira Andrade. E de gol, e de gol, e de gol. Grazie mille. Ci chiede, potreste fare un video sull'esame di Cils e Celi? Sarebbe un bel argomento questo video. Ci dobbiamo un po' informare e poi lo possiamo fare. Quindi sicuramente lo prenderemo in considerazione. Grazie ancora, Alex. E infatti arrivano tanti commenti anche di Claudio e de gol. E de gol. Bene, allora, come avrete visto dal titolo, ragazzi, oggi siamo riusciti ad organizzare un quiz, quindi come facevamo sempre il martedì sera, un quiz d'italiano. Quindi speriamo che vi piaccia. Speriamo di tenervi compagnia durante questa domenica, durante questa serata. E che dire, Carlo? Saremo in diretta per almeno un'oretta, quindi un'oretta insieme. Possiamo fare un po' di domande di italiano, come ha detto Giulia. Possiamo chiacchierare, rispondere alle vostre domande, un po' punto d'incontro. Il format è leggermente diverso, perché come vedete adesso io e Giulia siamo a distanza? Non siamo più collegati dalla stessa stanza? È vero. Salutiamo anche Marcello, che dice salutatemi. Ciao Marcello. Poi vediamo cosa dicono. James dice prego isn't quite like nonnas. Quindi prego non è buono come la salsa della nonna. Certo. Eh, la salsa della nonna è sempre imbattibile. È imbattibile. Aspetto, vediamo un attimo. Mi si sente? Oppure c'è eco? No, quando parlo io c'è un po' di eco, perché hai forse l'audio troppo alto. Giulia, sei in Italia o in Austria? Dove sei? Ciao Aida. Io sono ancora in Austria, torno in Italia a fine mese, quindi diciamo verso il fine giugno, primo luglio, non so bene, poi torno in Italia. Poi c'è Laura. Ciao, la nonna del nord. Ciao Laura, come stai? Allora, il video delle nonne sta andando molto bene, tanti commenti positivi. Ah, ai nostri amici è piaciuto il video dell'Alto Adige. Ti ricordi che nella scorsa diretta parlavamo che sarebbe uscito un video, avevamo fatto indovinare a qualcuno di cosa parlasse. Quindi vi è piaciuto ragazzi? È stato interessante? Avete scoperto cose nuove? Fateci un po' sapere. Il video è andato bene, no? È andato bene. Siamo molto soddisfatti. Cioè, con quel video abbiamo totalizzato circa 30.000 visualizzazioni nel giro di due o tre giorni. Quindi complimentoni a Giulia, perché Giulia ha ideato Giulio con la sua amica Fatma. Quindi Giulia ha ideato il video con la sua amica. Lo hanno realizzato tutto molto velocemente, hanno portato un contenuto di valore e sotto un con un format molto leggero e piacevole da ascoltare. Quindi secondo me è un bel lavoro. Brava Giulia. Inoltre, inoltre, ringraziamo tutti voi che siete qui all'ascolto, tutti coloro che ci seguono dal giorno uno, perché io e Carlo abbiamo raggiunto i 10.000 iscritti qualche giorno fa, quindi grazie mille a tutti per il vostro supporto. 10.000 iscritti ragazzi, chi l'avrebbe mai detto? Sì. È un bel traguardo, siamo davvero tanto contenti. Adesso lo scrivo anche qua. 10.000 iscritti! Applauso a tutti noi, amici! Che bello! Piano piano stiamo crescendo in modo, come dire, sostenibile, se mi vuoi portare la parola. Che significa che non cresciamo spropositatamente come tanti altri canali, però diciamo che ogni persona che si aggiunge al nostro progetto se ne innamora e questo è quello che ci piace. Esatto. Quindi ragazzi, vi ricordiamo adesso di schiacciare il tasto mi piace ancora prima di iniziare, quindi importantissimo, mettete il mi piace. E arriva una donazione da Annette, un super stick. Oh, ero già partito col quiz, scusami. È the goal, è the goal, cara Annette, grazie mille! Grazie mille! Grazie Annette! Ah sì, eccola qui, adesso la vedo. Sì. Grazie mille Annette per la tua donazione e che dire, possiamo cominciare con il quiz? Abbiamo un po' di domande oggi? Cominciamo subito con il quiz, vediamo che cosa ci aspetta. Proviamo a giocare come sempre al dito più veloce, quindi vi faremo vedere la frase da completare, ci saranno quattro opzioni tra cui scegliere, solo una è l'opzione corretta, la persona che risponde più velocemente si aggiudicherà il premio del dito più veloce e comunque andremo a leggere i nomi dei primi classificati. Di solito leggiamo i primi cinque. Esatto, quindi il nostro motto è mani sulla tastiera che vinca il più veloce, che vinca il dito più veloce. Cominciamo, intanto salutiamo anche qualcuno che si collega da Facebook, vedi? C'è Geraldo, c'è Tony dall'Egitto, c'è anche Pietro, Yung Mo Kyung su YouTube. Ciao Pietro, c'è anche Fernando, guarda ci sei collegato, ciao a tutti, buonasera. Bene, dai, penso che siamo abbastanza persone per poter cominciare. Sì, va bene, c'è anche Mary Lee C. Allora amici, siamo pronti? Mani sulla tastiera, io controllo intanto che il test parta dalla prima domanda, sì? Sì, speriamo. E allora cominciamo, MST, mani sulla tastiera, lo scriviamo e vai. Vai. Brindiamo alla buona, alla cieca, alla nostra o alla faccia. Questa è un'espressione che è stata presa da uno dei miei video, dove avevo fatto le espressioni in italiano con alla. Quindi ovviamente saranno avvantaggiati coloro che l'hanno visto. Ah, Giulia, adesso il gioco diventa più difficile perché riceviamo risposte sia su YouTube che su Facebook. Ah, io pensavo perché fosse tornata Aida. Ah, anche perché, anche per Aida, certo, certo. Ma allora, intanto volevo dire ad esempio a Gheraldo Damiani o a Colude Mara e a tante persone che sono su Facebook che in realtà la nostra piattaforma principale è sempre YouTube. Per cui assicuratevi di essere iscritti al canale YouTube, ok? E però comunque avrete la possibilità di partecipare anche da Facebook. Sì. Allora, diciamo che in questa espressione c'è una parola sottointesa che si può dire ma anche non dire ed è salute, no? Quindi brindiamo alla salute, si può anche dire, alla nostra salute. Esatto. Allora, chiede Tony se questo è come un proverbio. Direi che definirlo proverbio è troppo, però è di certo un modo di dire o comunque un detto o un'espressione diciamo molto utilizzata. Il proverbio in realtà è una frase fatta che non va mai modificata, che deriva dalla cultura popolare dei nostri nonni ed è così, punto e basta. Esatto. Mentre i modi di dire vanno coniugati, brindiamo, brindate, brindo. Esatto. Quindi questo è più che altro un detto o un modo di dire. Comunque, bella domanda Tony, grazie mille e andiamo subito a premiare il vincitore. La risposta è la C. Adesso non abbiamo Faustino che ci aiuta con la classifica, però vediamo se riusciamo a trovarlo. Secondo me il dito più veloce è quello di Claudio Fellini. Sì, quindi al primo posto c'è Claudio Fellini. Complimenti Claudio. Grande Claudio che si aggiudica il premio per il dito più veloce. Beh, ma lui in modo di dire, ribadiamolo ancora una volta, le sa tutti. Sì. Poi al secondo posto c'è Maria Ester Traghetta Rosa, al terzo posto abbiamo Aida, Madern, Pietro al quarto posto e Jean-Pierre Burda a quinto posto. A quinto posto. Benissimo. Questa è la classifica così come la vediamo noi. Cominciamo bene con il piede giusto. So che a volte in base alla connessione qualcuno potrebbe vedere la classifica in modo diverso, ma ovviamente noi premeremo in base a quello che vediamo noi. Esatto. Quindi amici, mani sulla tastiera perché andiamo con la prossima. Ecco, lo metto anche a schermo. MST. Mani sulla tastiera e vediamo la prossima. Tre, due, uno, vai. Sinonimi e contrari. Contrario di egocentrico. Presuntuoso, vanitoso, altruista oppure egoista. Che cosa significa egocentrico? Vediamo un po'. Sì, Allora, io direi che questo aggettivo ha diversi valori, cioè si può utilizzare con diverso valore. Possiamo vedere tra le opzioni alcuni sinonimi, ma uno è un contrario, solo uno. Sì. Io credo che comunque i nostri amici lo sappiano perché le risposte che vedo arrivare sono prettamente corrette. Esatto. Io vedo tante C. Tante C e infatti C, ragazzi, è la risposta corretta. Bravissimi. Esatto. Quindi egocentrico è una persona che è sempre al centro dell'attenzione, no? Magari è un po' vanitoso, un po' presuntuoso. E quindi il contrario è altruista, è una persona che pensa invece agli altri, invece che a se stesso. Esatto. Allora, il dito più veloce è quello di Mar. Mar. Bravissima. Complimenti, Mar, per il tuo primo posto. Al secondo posto abbiamo Beate Settacek, da Vienna. Complimenti. Al terzo posto c'è Fernando Contreras, da Madrid. Bravissimo. Al quarto posto c'è Aida, da Milano. Da Milano? Sì, ormai da Milano. E al quinto posto c'è Maria Esther, traghetta rosa. Complimenti. Bravi, ragazzi. Che dire, no? Bene, mi sembra che il quiz stia andando bene per ora. Sì, andiamo avanti allora, amici, con la prossima. Tre, due, uno, vai. Vai. Casa nuova, se ne è la possibilità. Quindi, cosa utilizziamo nella proposizione principale e cosa utilizziamo nella subordinata? Dobbiamo scegliere qui, tra diverse varianti, diversi tempi del congiuntivo e diversi tempi del condizionale. Questo è chiaramente un periodo ipotetico. Rifacessi casa nuova, se ne avessi la possibilità. Rifarei casa nuova, se ne avrei la possibilità. Rifacessi casa nuova, se ne avrei la possibilità. O rifarei casa nuova, se ne avessi la possibilità. allora amici chiaramente nella frase principale andremo ad utilizzare un condizionale perché il congiuntivo non lo usiamo nella frase principale e invece l'opposto nella subordinata in cui utilizzeremo il congiuntivo perché il condizionale nella subordinata non ci sta si tratta di un periodo ipotetico del secondo tipo periodo ipotetico della possibilità e quindi frase principale rifarei casa nuova frase subordinata se ne avessi la possibilità congiuntivo imperfetto esatto congiuntivo imperfetto nella subordinata condizionale presente nella principale esatto per cui se la risposta corretta è la D andiamo a cercare Giulia tra i commenti ricevuti vediamo chi si aggiudica il premio per il dito più veloce sì allora intanto salutiamo Jean-Louis Chebridon che dice ciao a tutti ciao al Dream Team sono un po' in ritardo spero che stiate bene ciao stiamo bellissimo alla grande alla grande Jean-Louis allora il dito più veloce è ancora una volta quello di Mar Mar che brava due volte di fila al primo posto al secondo posto c'è Claudio fantastico bravo Claudio terzo posto è di Beate anche lei era sul podio prima quarto posto c'è Aida bravissima Aida e al quinto posto c'è Fernando Fernando a pari merito con Marcello dai anche Marcello è stato bravo e veloce bene allora amici prima ah ok c'è una domanda di Richard Armstrong chiede cosa significa rifare e vedo che Marcello ha già risposto fare di nuovo sì praticamente rinnovare la casa diciamo quindi rimetterla a posto esatto farla un po' più nuova rinnovare è più preciso come significato rifare è un po' generico cioè rifaccio casa nuova ma cosa vuol dire semplicemente la arredi oppure la ricostruisci non è molto chiaro è un po' vago così sì potrebbe anche solo essere cambiare tutti i mobili ad esempio non significa per forza rifarla da zero dipende certo dal verbo fare e il verbo fare è un verbo che si adatta a tante circostanze ma che chiaramente non è ultra specifico esatto è un verbo che è un po' generale generale bene abbiamo premiato e quindi possiamo continuare sì ah intanto vedo Giulia che possiamo vedere tipo i like e le emoticon che ci arrivano da facebook non so se tu le vedi in alto no bello bella questa funzione e volevo chiedere una cosa prima di continuare con la prossima cari amici dateci un piccolo feedback una piccola opinione su come vi sembra la diretta stiamo andando bene stiamo andando male il ritmo è veloce è lento ci sentite bene ci vedete bene esatto e il modo di farci capire che la diretta vi sta piacendo è lasciarci un mi piace chiaramente assolutamente è molto utile per noi per capire e anche per crescere su youtube ok bellissima benissimo benissimo va bene perfetta benissimo bene ok allora direi che possiamo andare avanti cari amici mani sulla tastiera guarda Annette che dolce che dice voi siete bravissimi come sempre grazie grazie e poi Fernando dice anche incredibile funziona così bene da posti così lontani veramente grazie alla tecnologia riusciamo a fare anche questo ok tutto bene come di solito va bene dai sono contento allora che nonostante la distanza vada tutto bene sì ok mani sulla tastiera cari amici siamo pronti mettiamo qua ah vedi questo è quello di twitch mettiamo quello di youtube eccoci qua allora mani sulla tastiera amici 3 2 1 vai vorrei tanto vedere il Canada anche a me piacerebbe visitar visitarlo visitarla visitargli o visitare vediamo un po' che cosa dicono i nostri i nostri amici wow wow quante risposte che arrivano in modo ultra veloce e ultra corretto Giulia eh sì esatto infatti il Canada il Canada è un nome maschile anche se finisce con la A è un'eccezione diciamo quindi visitarlo e non visitarla se fosse stata l'Italia vorrei tanto vedere l'Italia anche a me piacerebbe visitarla giusto quindi si tratta di un pronome diretto ma i nostri amici a quanto pare ne sanno di pronomi diretti lo conoscono già questa era facile perfetta per me di Chanet sì bene dai ok quindi pronome diretto che ricordiamo sostituisce il complemento oggetto il complemento oggetto quindi il Canada in questo caso e allora andiamo a cercare il dito più veloce cara Giulia tra le tante risposte che abbiamo ricevuto qua sarà difficile capire chi è il primo un po' sì perché dobbiamo cercare allora la A io direi che è Mar Mar a me sembra Mar sì bravissima Mar complimenti Mar tra l'altro aveva paura di non arrivare più sul podio e invece per la terza volta di fila al primo posto bravissima no primo posto forse c'era Claudio prima ma bravissima al secondo posto c'è Fernando complimentoni Fernando terzo posto lei Aida Aida anzi che non è sbaglia una quarto posto abbiamo Claudio e al quinto posto Beate Sedlacek e Tony dice non è femminile esatto il Canada non è un nome femminile vorrei mettere a schermo il commento sì eccolo qui non è femminile quindi Tony Medat da Facebook ci lascia questo commento amici di Facebook ricordiamo a tutti la diretta la potete seguire da Facebook ma noi vi consigliamo di iscrivervi al canale YouTube perché su YouTube pubblichiamo molto più contenuto quindi tanti video sulla cultura italiana e sulla lingua italiana in generale li trovate solo su YouTube su Facebook su Facebook arriva qualcosina però la nostra piattaforma principale è rigorosamente YouTube bene andiamo avanti Giulia andiamo avanti vediamo un po' mani sulla tastiera amici 3 2 1 vai questa villa è una bellezza questa villa ha una bellezza unica questa villa è di una bellezza disarmante questa villa è per una bellezza armonica questa villa è con una bellezza storica vediamo un po' che cosa dicono i nostri amici ah beh vedo tante B tante B qualche A diamo ancora un paio di secondi per dare la possibilità a tutti di rispondere in questa frase vediamo un utilizzo della preposizione semplice abbastanza speciale ma molto utilizzato quindi cari amici prendete nota questa volta sì esatto si utilizza molto ovviamente ricordiamo che tutto il materiale utilizzato sarà disponibile gratuitamente attraverso il link che trovate sul nostro canale youtube nei commenti e nella descrizione di questa diretta la diretta chiaramente rimarrà salvata su youtube per cui anche chi non ha non si fosse collegato adesso durante la live la può benissimo recuperare domani esatto colgo l'occasione di salutare Lisa M che ci ha contattato prima dicendo che non poteva collegarsi ma che guarderà la diretta dopo quindi quindi un saluto per il futuro sì bene allora diamo la risposta ci sono solo B io vedo tantissime B ed è corretto ragazzi questa villa è di una bellezza disarmante è bellissima disarmante che significa che ti spiazza sì no di una bellezza sconvolgente questi sono tutti sinonimi è vero e allora che al primo posto c'è lui Gianni Dream Team primo posto dito più veloce per te secondo posto Fernando terzo posto Alex Moreira Andrade benissimo quarto posto Aidona e quinto posto Mar Mar che bel podio ragazzi bravissimi eh quest'oggi Giulia abbiamo un podio che è prettamente catalano perché c'è Aida e Mar che si classificano sempre tra le prime cinque è vero è vero e comunque anche molto spagnoleggiante abbiamo Fernando che è spesso sul podio anche i nostri amici francesi comunque si fanno sentire Gianluigi dice Bridon ne ha ne ha indovinate un paio bene 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 così amici i nostri amici tedeschi invece oggi non li ho visti spesso sul podio eh va bene ma c'è ancora tempo c'è ancora tempo per tutti per riparsi va bene dai allora andiamo avanti con la prossima mani sulla tastiera cari amici ah guarda Francesca ciao Francesca ciao ben ritrovati amici come stai Francesca Francesca ha fatto parte del video delle tre generazioni bene continuiamo vediamo qual è la prossima domanda ah un modo di dire piantare baracca e burattini che cosa significa essere in imbarazzo fare del proprio meglio abbandonare ogni cosa o rimanerci male guarda che forse i nostri amici la conoscono ma dai mi sa che la conoscono piantare baracca e burattini questa non me l'aspettavo Giulia cioè non mi aspettavo che fosse così conosciuta neanche io onestamente e infatti Claudio dice questa non la conosco ah ecco vedi tra l'altro quando sveleremo la risposta ho ho anche cercato l'origine di questo modo di dire e poi ve lo leggerò quindi vediamo un po' che cosa significa beh io vedo tante C vedo qualche B qualche D ma diciamo che sono soprattutto C ora lasciamo ancora qualche secondo ma penso che questa sia la risposta definitiva esatto abbandonare ogni cosa quindi piantare ogni cosa in asso abbandonare il tutto vi leggo velocemente dall'origine di questa espressione allora in questo modo di dire in questo detto la baracca è intesa come il teatrino delle marionette che penso che tutti conosciamo ed è riferita a un vecchio aneddoto che racconta come gli abitanti del paese offesi da una battuta di un artista burattino presero la baracca e i burattini e li buttarono nel fiume e quindi da qui si dice piantare baracca e burattini quindi piantare tutto in asso bene fantastica spiegazione complimentoni Giulia ora vediamo un po' la classifica quindi vediamo un po' il podio al primo posto troviamo Alex Moreira Andrade complimenti Alex secondo posto Aida bravissima terzo posto una new entry Clarissa Canata Gome ciao Clarissa da dove ci iscrivi complimenti Clarissa credo la prima volta per Clarissa sul nostro canale nelle nostre dirette poi abbiamo aspetta questo era il terzo posto sì Beate al quarto posto sì e Fernando Contreras al quinto posto fantastico risponde bene è difficile magari questo era un po' difficile ah dall'argentina ci scrive Clarissa ah sì dall'argentina fantastico dall'argentina bene allora Annette dice Carlo mi sto riscaldando relativo al documento gli amici tedeschi non sono stati sul podio ma ragazzi non era una provocazione verso i nostri amici e cugini tedeschi i tedeschi sono un po' i cugini degli italiani ma non preoccupatevi l'importante è divertirsi e poi se si arriva sul podio ben venga Clarissa che ci manda tante faccine con i cuori bene Carlo continuiamo vediamo un po' scopriamo qual è la prossima domanda mani sulla tastiera amici tre due uno vai quindi questo documentario argomenti molto interessanti parla tratta scrive o ambienta vediamo un po' che cosa dicono i nostri amici guarda quanti che stanno arrivando allora parla potrebbe andare bene ma manca la preposizione parla di qualcosa di che cosa parla parla di argomenti molto interessanti scrive un documentario non scrive e ambienta un documentario viene ambientato in un'epoca oppure in un luogo esatto esatto quindi l'ultima che ci rimane è tratta quindi tratta ovvero parla di e al primo posto io vedo il nostro grande amico Claudio bravissimo Claudio complimenti Claudio per il tuo primo posto secondo posto francese quindi abbiamo primo posto brasiliano secondo posto francese con Jean-Louis Chebridon terzo posto catalano con mar quarto posto austriaco con beate e quinto posto ancora spagna con Fernando da madris no Carlo scusami ho sbagliato ho sbagliato perdonami Fernando ti ho premiato ma ero solo a pensiero mi stavo sbagliando il quinto posto è di Aida eh sì se lo porta a casa Aida il quinto posto ma rimaniamo in Spagna peccato per Mira che ce la stava facendo è arrivata al sesto posto per pochi secondi vabbè ma non fa niente sì sì noi creiamo questa competizione ma ovviamente è solamente ah dice siete tutti così veloci e Annette anche dice gli altri sono troppo veloci quindi qui c'è molta competizione no e Fellini Claudio dice grazie Mar sei la più veloce finora è vero complimenti Mar bene vediamo andiamo con la prossima mani sulla tastiera scopriamo un attimo che cosa ci aspetta chissà un modo di dire un sinonimo è contrario Aida dice a Milano la connessione è più lenta rispetto a cosa sua in Catalunia potrebbe essere va bene mani sulla tastiera amici 3 2 1 eccola qui sinonimo di Ambaradan questa ragazzi l'ho scelta io è una parola che si utilizza cioè sembra una parola stranissima ma in realtà si utilizza veramente tanto nel parlato ma chissà se si utilizza anche nelle altre lingue ah non lo so questo sarebbe curioso da sapere comunque che cosa vuol dire Ambaradan una bellezza un trionfo una chiarezza o confusione ma guarda che in realtà i nostri amici la conoscono Carlo noi pensavamo di no ma eh ma vorrei capire se anche nelle altre lingue si si dice così o è se è una cosa italiana o se è una cosa internazionale ditecelo scriveteci nei commenti amici nella vostra lingua madre si dice così molto interessante da sapere e comunque si ragazzi si dice significa proprio confusione ma cos'è sto Ambaradan ma che cos'è questa confusione questo casino come dice Fellini si allora è una parola strana vero Aida il dito più veloce è quello di Alex Moreira Andrade fantastico al secondo posto troviamo Jean-Louis Chebridon al terzo posto c'è Mohamed Hassan El Saidi bravo Mohamed complimenti tra l'altro credo una new entry un nuovo amico si mi sa di si per cui benvenuto ricordatevi ragazzi tutte le persone nuove che ci stanno seguendo di iscrivervi al canale quindi iscrivetevi adesso al canale perché oltre alle dirette di ogni domenica alle 20 e 30 escono anche tantissimi video per imparare l'italiano chiaramente stiamo parlando del canale youtube per tutti gli amici che sono su facebook canale youtube e poi abbiamo al quarto posto Claudio Fellini e al quinto posto mar fantastico che ne pensi Giulia bene penso che sia un bel podio penso che sia un bel podio e che magari certe persone hanno imparato una parola nuova allora vediamo se mi hanno risposto se si dice anche nella loro lingua dice allora Claudio che va a intuito dice la D è l'unica diversa dalle altre salutiamo Pitfly Lire Lire dice mai sentito poi Alex Moreira Andrade in portoghese non c'è ok Aida quello più vicino forse sarebbe Ghirigal Ghirigal allora Annette ha addirittura consultato il vocabolario e poi ci fa una domanda Claudia ha scritto casino qual è la differenza tra casino e discarica devo sapere la parola giusta per descrivere il mio ufficio beh in realtà per descrivere l'ufficio quando una discarica è un posto dove si buttano tutte le cose che non utilizzi più che non si utilizzano più quindi se tu nel tuo ufficio butti tutto lì creando un ambaradan potresti anche chiamarlo discarica se vuoi però sì casino ha anche altri significati un po' come confusione che potrebbe essere tanto rumore oppure una confusione in una stanza dipende allora george chiede dov'è il link io non so se su facebook abbiamo copiato il link della diretta probabilmente no ma caro george semplicemente vai su youtube e scrivi piazza square ci troverai subito bene quindi in francese abbiamo come si legge embarass no embarà forse di Jean-Louis Chébredon embarà ah guarda un attimo che bel commento di fernando etimologia da amba aradam monte dell'etiopia su sui si svolse nel 1936 l'omonima confusa battaglia della guerra d'etiopia fra l'esercito del regno d'italia e l'esercito etiope ah ok quindi deriva da un evento storico in cui dove l'italia ha vinto se non sbaglio in cui l'italia combatte in modo confusionario e quindi è stato utilizzato poi il nome di questo monte che bello scoprire come nascono le parole sì e grazie fernando per aver fatto velocemente questa ricerca ed averla condivisa con noi e richard amstrong dice interessante salutiamo jaime sebaios dal cile ciao amici mani sulla tastiera andiamo con la prossima pronti per la prossima ragazzi tre due uno vai tutti tutti due siamo Genova tutti i due siamo da Genova tutti e due siamo da Genova tutti due siamo di Genova tutti e due siamo di Genova vediamo un po' questa mi piace perché spesso vediamo confusione tra la preposizione di e la preposizione da quando si tratta di moto da luogo o quando si tratta di stato in luogo esatto quindi qua stiamo parlando di provenienza quindi ricordiamoci ragazzi che venire da è essere di una città quindi vi ho dato un bellissimo suggerimento sì arrivano tante risposte guarda tante persone da facebook Giulia la prima direzione che facciamo su facebook e non mi aspettavo sinceramente di ragazzi di facebook da facebook venite tutti su youtube dove siamo più presenti no la maggior parte del tempo di e da sono un incubo dice Annette sì questo è vero per gli studenti d'italiano di e da sono due proposizioni un po' confusionarie fernando fernando commenta vero tutti tutte e due tutti e due insomma sì bravo fernando tutti e due non tutti i due e allora svegliamola svegliamola la risposta grazie cari amici è tutti e due siamo di genova esatto tutti e due quindi noi due entrambi siamo di genova essere di una città come dice come dice pietro esatto sì bene ora ci resta da premiare premiamo la classifica abbiamo la lettera aspetta fernando dice che nel parlato sembrano uguali tutti e due tutti e due è vero perché si dice così velocemente che neanche si sente ah esatto non si riesce a percepire molto la differenza ma io direi che il dito più veloce è quello di Jean-Louis Chebridon Chebridon complimenti complimenti Jean-Louis al secondo posto poi abbiamo Mar che brava Mar bravissima tante risposte vedono la A cioè tante persone hanno risposto con la lettera A quindi tutti i due siamo da Genova quindi completamente sbagliata amici che avete dato la A perché la prima parte entrambe erano errate esatte entrambe le le risposte parziali sono errate nella A infatti Richard Armstrong dice le domande doppie sono difficili perché sai magari sai una ma non sai l'altra e quindi anche lì hai 50 e 50 al terzo posto c'è Aida Madern complimenti Aida al quarto posto Pietro Jung e al quinto posto Mira Smart che bello Mira Smart sul podio sono contentissimo di avere un podio tutto GB tutto Great Britain leggiamo un attimo alcuni commenti ad esempio Felini Claudio dice almeno ho capito il mio errore questo è l'importante certo è proprio così l'importante è proprio capire i propri errori per non commetterli più Perse from Underworld Marci dice infatti io ho imparato con voi questo di tutti e due perfetto e Fernando dice disastro meglio farla finita ma no no farla finita è una cosa gravissima e Mira Smart esulta dice Hurray ok come sta come sta George George allora aspetta non capisco perché Pietro ma che cosa non capisce cosa Aida perché lo chiamiamo Pietro o che cosa ah forse sì beh comunque credo che perché Jung Mok Jung lui è sudcoreano però essendo un prete e vivendo in Italia per semplicità credo che si esatto il nome italiano sia Pietro semplicemente perché ce l'ha detto lui ce l'ha detto lui sì sì vedi infatti come dice lui stesso Jung Mok Jung Jung Mok Jung Mok è il nome coreano ok Pietro è il nome di battesimo ah ah Pietro è il nome di battesimo non lo sapevo un nome che che ovviamente fa riferimento alla religione cristiana sì bene possiamo continuare Gianluigi Bridon ah quota una frase molto famosa latina che sarebbe errare umano mes persevere diabolico insomma vorrei dirla in italiano e forse mi sarei più in grado di dirla in italiano errare umano perseverare è diabolico sì quindi se sbagli una volta è giusto va bene però se continui a sbagliare caro mio vuol dire che non stai imparando dal tuo errore bene bene dai poi ci sono alcune alcune allora allora dice Genova non è una città quindi sarebbe a Genova quando sei nella città puoi dire sono a Genova ma se vuoi specificare la tua provenienza dici sono di Genova o vengo da Genova esatto allora Ann dice Aida complimenti eri così calma nella live con Claudio non so se fa riferimento alla live che avevamo fatto noi con Aida Claudio e Faustino tanti mesi fa probabilmente potrebbe essere sì potrebbe essere e allora lo mettiamo a schermo per l'ultima volta comunque si dice essere di venire da come dice Pietro e Pietro scusa Richard Armstrong dice gli americani non possono pronunciare Pietro e figli forse per per il suono della GLI gli però Pietro qual è il problema? forse la R Pietro Pietro I don't know va bene dai amici io direi che andiamo con la prossima sì anche se ci sono tante domande che vorrei a cui vorrei rispondere che vorrei mettere a schermo però va bene dobbiamo anche andare avanti con il quiz cari amici ricordiamo a tutti ovviamente che la cosa più importante è lasciare il mi piace perché quello è gratis ed è obbligatorio perché a noi serve serve per continuare a fare quello che facciamo cari amici quindi mi piace per chi volesse strafare e fare ancora di più noi permettiamo noi diamo la possibilità di lasciare una donazione su youtube attraverso super sticker e super chat oppure tramite paypal sul nostro sito quindi per chi lo decidete lo decidete voi potete deciderlo voi però è un grosso aiuto come potete vedere siamo riusciti a fare questo upgrade oggi per fare le dirette a distanza quindi vi ringraziamo ancora una volta per averci dato la possibilità vero thank you grazie andiamo avanti con la prossima adesso dai vai mani sulla tastiera l'ho scritto sì è qui e andiamo avanti con la prossima vediamo cosa arriva modi di dire fare di tutta l'erba un fascio sì fare di tutta l'erba un fascio che cosa significa giudicare fare senza conoscere ridursi in miseria generalizzare eccessivamente o essere i migliori in un campo fare di tutta l'erba un fascio si dice sempre non bisogna mai fare di tutta l'erba un fascio e sì soprattutto quando si dà un'opinione un giudizio personale bisogna stare attenti a non far di tutta l'erba un fascio quindi adesso diamo un attimo qualche secondo ai nostri amici e poi faremo magari un esempio ovviamente amici siccome questo modo di dire esiste in ogni lingua potete dircelo nella vostra lingua noi lo leggeremo è sempre interessante condividere anche queste differenze linguistiche certo allora io direi che la possiamo svelare Giulia sì esatto quando si parla di fare di tutta l'erba un fascio si parla di generalizzare sì e Fellini Claudio dice ma dove ne trovate queste espressioni guarda che in realtà Claudio questa è un'espressione tanto 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 comune molto utilizzata cioè non è un'espressione di quelle che non si usano si vedono solo nei libri si usa tanto nel parlato e arriva una super donazione da 10 dollari da Richard Armstrong è the goal 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 grazie mille Richard thank you so much è veramente importantissimo per noi è super apprezzato grazie grazie grandissimo dice è tempo per una donazione è tempo per una donazione grazie beh questo significa che magari apprezza il nostro lavoro e arrivo un'altra donazione da Benita Leffler grazie mille un super super tra l'altro Benita ha una foto bellissima di un cane io adoro questa foto adesso esce il lato animalista di Giulia esatto di amante degli animali tutti i nostri amici hanno potuto notare nel mio video sugli insulti educati che difendevo ogni singolo animale esatto ovviamente la classifica Giulia non l'abbiamo fatta aspetta spieghiamo un attimo che cosa significa fare di tutta l'erba un fascio significa dare un giudizio su qualcosa o su qualcuno e poi generalizzarlo in modo eccessivo ad esempio avete incontrato una persona italiana che non vi sta simpatica e dite gli italiani sono antipatici ma in realtà avete incontrato solo una persona che non vi sta simpatica quindi non bisogna fare di tutta l'erba un fascio quindi significa non bisogna generalizzare esatto il dito più veloce è quello di Mar complimenti Mar al primo posto bravissima al secondo posto vediamo Fernando Contreras al terzo posto Maria Esther Traghetta Rosa sì al quarto posto Adam Donga Adam Donga un nuovo amico sì complimenti Adam per il tuo primo podio bravissimo e al quinto posto Jean-Pierre Burda dalla Francia bene complimenti poi andiamo a leggere un po' come si dice nelle altre lingue sì in francese mettere tutte le uova nelle mani quindi mettere tutte le uova nello stesso paniere infatti vedi lo traduce anche lo traduce anche letteralmente il nostro amico Jean-Louis Chebridon e arriva un'altra donazione Giulia da Fernando da Fernando Contreras se ne gole de gole de gole de gole de gole grazie grazie mille Fernando fantastico ragazzi e cosa scrive mettere todo è nel mismo sacco ah quindi fare tutta l'erba un fascio vedi si dice così molto interessante sì e come dice anche Maria e poi come dice anche Clarissa con una piccola variante lei anziché usare la parola sacco usa la parola borsa borsa in spagnolo sì e lire lire va molto semplice nicht generalisieren esatto non generalizzare mai vediamo questo credo sia dutch non lo so in inglese dice don't miss the forest for the trees no ma è un altro significato ha un altro significato dice però sì invece in tedesco nicht alle über einen kamscheren ah vedi alle über einen kamscheren bello conoscere anche nelle altre lingue esatto interessante quindi anche Veronica Kiss tedesca e vediamo in portoghese anche colocar tudo non mesmo sacco ah in inglese si dice paint with a broad brush ok interessante ha senso effettivamente comunque Giulia hai visto impressionante quanto no niente niente c'è Pete Fly che fa un altro commento non so leggerlo slovacco questo non lo so mettere in un sacco sarebbe bello imparare sarebbe bello imparare tutte le lingue del mondo e arriva anche in greco ma anche quello penso che ci viene difficile ok amici andiamo avanti con la prossima allora mani sulla tastiera tutti quanti pronti per rispondere il più velocemente possibile tre due uno vai non accorti del nostro arrivo non vi avete accorti non avete accorti non siete accorti non vi siete accorti vediamo che cosa dicono i nostri amici attenzione al verbo riflessivo cari amici esatto deriva proprio del verbo accorgersi quindi non la sbagliamo non la sbagliamo stiamo attenti al verbo riflessivo esatto beh però però arrivano tante risposte giuste volevo dare un'occhiata a facebook come si vedeva la diretta però non riesco lo farò dopo ok salutiamo marcello che ci vuole tanto bene grazie marcello di essere stato con noi grazie marcello ok io direi che annette lo spiega bene si sempre con essere non riflessivo esatto quindi non vi siete accorti quindi voi non vi siete accorti del nostro arrivo esatto quindi attenzione che con il riflessivo usiamo l'ausiliare essere esatto le domande diventano più difficili dice richard armstrong il livello di difficoltà cresce beh ma speriamo che cresca in modo graduale quello sarebbe bello allora andiamo a premiare la risposta corretta è chiaramente la di sì quindi chi si classifica al primo posto vediamo un po' Claudio Fellini Claudio bravo con il suo pappagallo sì immancabile poi al secondo posto Mar che oggi era veramente in forma terzo posto Mattia Calore ciao Mattia complimenti per il tuo podio Mattia hai un nome italiano sei italiano quarto posto Fernando Contreras e al quinto Pietro esatto benissimo vediamo se c'è qualche commento diciamo che è una onda su e giù una onda su e giù magari il livello del quiz forse sì sì e anche Nett dice Richard Armstrong dipende dipende certo dipende anche dalla preparazione degli studenti di ogni singolo studente andiamo avanti col quiz Giulia vai proseguiamo tra l'altro siamo già un'ora in diretta quindi dopo un'ora bisogna ricordare a tutti di schiacciare mi piace assolutamente e Annette dice nel mio schermo io sono al secondo posto Annette noi ti premiamo al secondo posto a pari merito con Mar con Mar perché ogni tanto succede che noi vediamo diversamente e Persephone Underward Mar dice il livello cresce ma anche noi diventiamo tutti più bravi io vedo il progresso di tutti noi ma anche noi lo vediamo spesso anzi l'abbiamo l'abbiamo detto che tanti studenti hanno hanno fatto molti progressi sono migliorati sì sì è proprio così andiamo con la prossima vai sinonimi e contrari cosa vuol dire via vai o meglio qual è il suo contrario questo via vai che cos'è un via vai movimento calma strada marciapiedi attenzione il contrario vediamo che cosa dicono i nostri amici allora mi sta informando Maria Noto che forse non riusciamo a vedere le donazioni quindi probabilmente ci sono alcune donazioni che non abbiamo visto Giulia davvero mi è arrivata questa informazione però non so se è così eh ho chiesto adesso vediamo un po' mi dispiacerebbe tanto se non abbiamo visto qualche donazione allora c'era quella di Fernando quella di Benita Richard e poi andando più su altre forse perché noi le vediamo un po' in ritardo Carlo va bene allora sono Liri si accorta forse di aver sbagliato perché dice il contrario ops allora via vai significa movimento traffico andare su e giù da una parte all'altra quindi cos'è tutto questo via vai quindi tutta questa gente o queste macchine insomma molta confusione quindi il contrario è proprio calma quindi la risposta B ora vediamo un po' la classifica la risposta corretta è la B andiamo a cercare allora al primo posto io vedo Mohamed Hassan El Saidi complimenti bravo Mohamed per aver guadagnato il diritto a essere chiamato dito più veloce la medaglia secondo posto Fernando Contreras terzo posto Marc Persephone Underworld quarto posto Jean-Louis Chebridon e al quinto posto Clarissa Canata Gomez ah bene e in francese si dice vai viene ah via vai vai viene interessante dice Anne bene sono contenta perfetto allora andiamo avanti con un'altra Giulia quante ne vuoi fare ancora quante ne vuoi fare ancora l'ultima l'ultima si va bene facciamo l'ultima ragazzi quindi rimanete qui con noi schiacciate il tasto mi piace e mani sulla tastiera l'ultima se non metti l'ultima noi non ce ne andiamo tre due uno vai che cos'è un bugiardino bella questa mi piace che cos'è un bugiardino è un bambino bugiardo è un malino per ragazzi è un foglietto illustrativo è un gioco da tavolo vediamo se se i nostri amici la conoscono secondo me questa non è molto conosciuta e metteremo in difficoltà molte persone allora george alber ci chiede quando sarà la prossima diretta la prossima settimana saremo in diretta domenica alle 20 e 30 ore italiane quindi come oggi esatto sempre su youtube l'appuntamento è fisso sì l'appuntamento è fisso allora che cos'è un bugiardino si tratta di un foglietto illustrativo quindi ad esempio quello delle medicine esatto quello è il bugiardino ragazzi quando aprite la scatolina della non lo so della tachipirina c'è un foglio che si chiama foglietto illustrativo o anche bugiardino e non è un piccolo bambino bugiardo attenzione come potrebbe fare intuire il nome sono curioso di sapere chi la sapeva sì ora vediamo il dito più veloce allora tanti vanno per bambino bugiardo te lo giuro Giulia ma il dito più veloce è quello di Mar Persephone Underworld complimentoni Mar bravissima Mar sempre sul podio oggi Gianluigi non lo so è un po' in bilico perché scrive C ma la V gli scappa non lo possiamo premiare sì lo possiamo premiare ma sì certo e allora secondo posto facciamo pari merito secondo posto pari merito con Aida con Aida pari merito con Aida perfetto e al terzo posto allora troviamo Fatia Mojib 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 Fatia Mojib anche lui penso sia un amico nuovo benvenuta Fatia benvenuta come stai complimenti per questo podio e al questo era il quarto posto abbiamo detto e ora manca il quinto vediamo Marin Bazzoli complimenti perfetto e poi Persephone Underworld Mar dice grazie oggi sono super contenta e lo devi essere perché sei arrivata tantissime volte prima e tantissime volte sul podio Beate dice non capisco perché le risposte vengono prima delle domande e come dice Fellini controlla di essere in live quindi premi dove c'è scritto live diretta e forse vedrai le cose giuste Annette se ne va ciao e poi e Beate dice che è live e vabbè può capitare a volte sì è vero poi Hartemboer dice che questa parola credo bugiardino non non si può trovare sul dizionario italiano olandese non lo so perché ok amici siamo raggiunti al termine di questo quiz di questo test la nostra domenica insieme noi ringraziamo tutti voi per essere stati qui con noi tutta la serata per aver partecipato al quiz per essere sempre attivi per lasciare il tasto mi piace ringraziamo anche tutti coloro che hanno ci hanno fatto una donazione e tutti quelli che ci supportano sempre grazie mille a tutti è stato veramente bello è vero tutto quello che ha detto Giulia è quello che ci dà non solo l'energia ma anche la possibilità di continuare di investire il nostro tempo in questo progetto in questa attività di YouTube grazie mille a chi supporta attivamente con il mi piace con le donazioni ricordiamo che tutto il materiale sarà disponibile tra poco o al più tardi domani mattina sul nostro sito il nostro sito è piazzasquareitaliano.com è possibile trovare tanti ebook gratuiti sul nostro sito e tante informazioni e contenuto extra tra l'altro ragazzi la prossima diretta nella prossima diretta vi daremo un regalo quindi chi parteciperà alla diretta riceverà un regalo quindi io vi consiglio già di attivare il promemoria di mettere sul calendario otto e mezza diretta su YouTube con piazzasquare perché riceverete un regalo da parte nostra fatto da noi sì e in più vorrei leggere qualche commento allora James dice riconosco da poco prima live che vedo grazie mille per questo sto imparando molto grazie mille grazie mille a voi è sempre un piacere non trovo ah ok Jaime sì poi Pete Fly dice grazie a voi lieto di vedervi di rivedervi grazie Pete grazie e mi piacerebbe per noi Marcello Miraglia buonanotte abbraccio grande grazie mille per tutti per tutti ok vabbè poi dice Paola Canziani grazie ancora della vostra compagnia del contributo Dave Damiano diceva grazie per condividere il vostro weekend con noi e tante altre cose Fellini mi avete portato la gioia in una domenica che sta per finire e lunedì sbatte al portone lunedì alle porte infatti ragazzi domani si ricomincia a lavorare è vero è vero è vero e noi però lavoriamo anche nel fine settimana per voi cari amici lo facciamo per piacere non solo le dirette ma anche per preparare appunto i regali oppure i video e c'è tanto lavoro ma a noi fa piacere quindi grazie a tutti buonanotte dall'Egitto da Tony e keep up the good work guys for sure amici è stato un piacere vedervi per questa ora abbondante di diretta domenicale ci vediamo la settimana prossima ricordiamo a tutti di iscriversi al canale youtube iscrivetevi e dovete anche attivare la campanellina perché quella vi permette di ricevere delle notifiche ogni volta che un nuovo video verrà pubblicato certo buonanotte amici è stato un piacere ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti